La ringrazio, la ringrazio, mi assumerò la mia responsabilità, mi assumerò tutte le responsabilità, è giusto, è verissimo, procedere al nome del codice dell'azione. E' una vergogna quello che fate, è vergognoso, è da un anno di piccioni arretrati, è vergognoso, vi dovete vergognare, tra dieci minuti sarete su tutti i social. Prego, un documento. Lo sta prendendo, sono il titolare, sono il titolare, non preoccupare, tempo a dieci minuti, vergognatevi, vergogna, 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 vergognatevi, è una vergogna, vedo, metto le scuole, ci state multando, di piccioni arretrati, è una vergogna, vergognatevi, vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Mi vuole arrestare, mi vuole arrestare, arrestatevi, 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 siamo disperati, non ce la facciamo. Ti posso parlare, ti posso parlare un momento, è vergognoso, ti posso parlare un momento, non mi devo parlare, mi dovete sanzionare, sanzionatemi, 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 vergognatevi. Vi dovete sanzionare, io voglio parlare, non vado senza i viti, non vado senza i viti, non vado, non ce la facciamo più. Paganoizzare, non vado senza i viti, non vado senza i viti, non vado senza i viti, all'initi si vatti sono venato. Grazie a tutti.